Sacchi abbandonati ai piedi di Cassonetti o fenomeni che quotidianamente si riscontrano purtroppo nel nostro territorio. Sul 2017 sono stati riscontrati 8600 segnalazioni. Sono entrati in servizio il 19 ottobre scorso ed hanno già individuato 34 trasgressori. Si tratta degli ispettori ambientali in azione sul territorio comunale aretino. Hanno fatto 10 sopralluoghi, praticamente fanno 10 sopralluoghi mese, con due squadre di due componenti e hanno rilevato circa 180 non violazioni dei regolamenti comunali. Di queste 180 violazioni 34 sono stati individuati, sono stati trasgressori, sono stati verbalizzati ovviamente a disposizione di legge e quindi su questo poi si provvederà a notificare chiaramente la multa, la sanzione. Il deposito di rifiuti fuori dai Cassonetti o senza rispettare le norme del porta a porta è punito con una sanzione da 85-100 euro, ma alcune fattispecie di abbandono rappresentano una violazione di carattere penale con una sanzione da 300 a 3.000 euro che raddoppia nel caso in cui vengano abbandonati i rifiuti pericolosi. Si aprono anche i sacchi, si vede cosa c'è dentro e da quello che c'è dentro si può riuscire a risalire la provenienza e quindi alla sanzione nei confronti di chi ha prodotto questo cattivo uso dell'ambiente urbano. Io spero che questo pian pianino diventi un modo corretto del cittadino di trattare il rifiuto solido urbano, un po' per aumentare le percentuali di differenziata, ma dall'altro canto anche in maniera molto positiva cercare di migliorare la qualità della differenziata, perché solo da una differenziata di buona, di alta qualità si ottiene un ritorno economico che è alla base del processo di riuso e alla base del processo di abbattimento della tariffa. Tre dunque i capisaldi, l'attività di controllo, in secondo luogo l'installazione di fototrappole che saranno spostate a rotazione su tutto il territorio comunale ed infine il miglioramento dei punti di raccolta.